Capitano, ora che hai cominciato ad ambientarsi in questo posto lontano dalla vita, dalle idee, da tutto, come dice il nostro colonnello, ripiange molto la città. Beh, la vita che vi si conduce è certamente molto diversa. No, non si allarmi, non si allarmi, mia cugina. Non immaginavo che nella voce umana potesse esserci un suono così orribile. Convulsione nervosa, isterica se preferisce una parola di moda. Dio, come esprimere con le parole la bruttezza di quell'infelice? In quel momento avrei dato tutta la vita che mi resta, in cambio di un'ora di bellezza. Oh, Giorgio, 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 dove è stato? Quella donna si lascia morire per lei, bel capitano. Quando ti bacio sul tuo bel viso, vedo il tuo peschio gelido a fare...